Siamo nella biblioteca comunale di Olianico e siamo nella prima sala, vero? Sì, che è la sala di ricevimento. Sì, stiamo parlando con? Silvana. Perfetto. Quanti libri avete? Abbiamo circa 9.000 libri. 9.000 libri? Ok. E avete anche altre sale? Sì, abbiamo ancora due sale di là. Ciao! E sono tutte accessibili, vero? Certamente. Ok, possiamo vedere? Certamente. Allora, c'è un po' di disorbite, anzi c'è molto disorbite. Ma va bene. Perché, allora, la biblioteca anni fa era in un altro edificio. Quando è stata trasferita qui, purtroppo, i locali non sono contigui, di conseguenza, che cosa è successo? Che normalmente le persone vengono qui e si scelgono i libri qui. Per cui i libri, nelle altre due sale, sono stati un po' abbandonati a se stessi. E infatti ci sono molti libri che non sono mai stati letti. Adesso sto cercando di dare un ordine diverso alla biblioteca, in modo che si possa accedere a tutti i libri. Sono un'allieva della scuola di Castellamonte, della scuola di Piemontese di Castellamonte, e partecipiamo a tutta una serie di concorsi, eccetera. Ho preso alcune cunte che avevo fatto per i concorsi e le ho messe in questo libro. Fantastica! Ovviamente... Facciamo un'inquadratura al libro? Ovviamente sono in piemontese e poi tradotte in italiano. Sono piuttosto... insomma, ci sono dei santi che sono come i nostri paroci campani. Ma sono un po' irreverenti? Sì. Fantastico allora, non è da leggere assolutamente. Questa è tutta la letteratura... no, non è tutta, è solo parte della letteratura americana. C'erano dei volumi piuttosto malmessi e quindi ho tolto le copertine, li ho risistemati, il lavoro che sto facendo adesso di là. Questa letteratura americana, laggiù abbiamo gli inglesi, poi i francesi, i tedeschi, la letteratura spagnola. Ecco, questi sono ancora tutti italiani che aspettano di essere trasferiti di là. Ecco, nel periodo del Covid avete notato una maggiore richiesta di libri, di consegne? Sì, sì, perché chiaramente la gente era chiusa in casa. Allora, c'è purtroppo un grosso problema. La biblioteca è frequentata da persone oltre i 40. Purtroppo noi abbiamo cercato di lavorare con i ragazzi. Infatti i ragazzini delle elementari vengono una volta al mese da gennaio a maggio. Però poi siamo destinati a perderli. Quindi adesso facciamo, lavoriamo. Purtroppo ultimamente è stato impossibile. Ma avevamo avviato un lavoro con la scuola materna. Per cui i ragazzini della materna venivano, i bimbi della materna venivano una volta al mese qui e si leggeva, si guardavano, anche semplicemente i libri dei grandi, anche insomma, si cercava di invogliare. E poi io sono andata parecchie volte a leggere alla scuola.